Yu-Gi-Oh tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi, dopo lo scorso video reaction a SimoKates, al suo video come investire in Yu-Gi-Oh e guadagnare più delle cripto, anche il 200% in un mese, oggi siamo qui con lui. Simone, Simon Gates su web per farla fedifrago, faccio video su YouTube in cui bene o male racconto le storie che mi va di raccontare. Il motivo per cui sto qui è perché ho detto una frase, cioè che si può investire in Yu-Gi, guadagnare più che con le cripto. Ed è per questo che siamo qui. No, che nel pratico io attualmente guadagno più delle cripto, però non credo sia stata proprio la stessa cosa. Comunque, come si è già presentato, ragazzi, oggi siamo con Simone e con lui voglio far partire una nuova serie chiamata Boomer reagiscono alle nuove carte di Yu-Gi-Oh, dove i vari ospiti, ovviamente, che sono rimasti al 15-18, dovranno analizzare i vecchi artwork che hanno sempre amato per capire se tutta la merda che c'è adesso può essere apprezzata o meno. Ovviamente, ragazzi, però, prima di iniziare vi ricordo i vari sponsor del canale, tra cui Card Game Corner per prodotto sigillato e carte singole. Car Trader per acquistare carte singole, tipo stile Car Market e Jack Store per acquistare prodotto coreano. Trovate tutti i miei referral link e i codici sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yu-Gi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante, se ne può parlare. Detto questo, andiamo con la sigla. Oh, Simo, finalmente siamo riusciti a vederci. E sono molto contento di questo. Soprattutto perché il tuo video era molto particolare. Diciamo che non è il normale titolo che trovi su YouTube. Quindi, io volevo farti, prima di iniziare, un paio di domande. Allora, primo, come cazzo ti è venuto in mente di fare questo video e cosa c'entra con il titolo? Vabbè, sì, è un po' clickbaitoso, se devo essere sincero. Semplicemente che io, diciamo, quando ho iniziato a investire in carte di Yu-Gi-Oh non era un vero e proprio investimento, era banalmente un ho dei soldi che mi avanzano, compriamo un po' di cazzate di quando ero piccolo. Sostanzialmente, così facendo, ho scoperto le ghost. Mi sono ricordato una reaction di Volpescu. Ho detto, ah, ma cazzo, quindi le ghost? E poi ho visto i prezzi, così così, mi ha preso bene. E ho iniziato a comprare un po' di carte a casa. Questo è il senso. Ovviamente, il video di uno che compra carte a casa sarebbe stato abbastanza così. Quindi ho detto, ok, cerchiamo di trovare una linea a questa roba qui e ho detto, vediamo di capire se si può investire su sta roba qua. E quindi poi ho iniziato a comprare anche altre ghost perché prima ho comprato solo il drago bianco il primo, no? Quando ho deciso, ah, ma forse ci starebbe come taglio per il video vedere le carte come un investimento ho detto, ok, cerchiamo di capire se ora volessi investire in queste carte quindi togliamo la parte revival e mettiamo la parte investimento cosa farei e il video parla di questo. Ok, ok. Diciamo che non sono molto d'accordo, però va bene. Allora, seconda domanda. Perché hai mischiato i prezzi di eBay con quelli di Card Market? Questa è bellina come domanda. Semplicemente perché all'inizio Card Market io non lo conoscevo neanche. Quindi sono delle clip fatte pre-scoperta di Card Market e clip fatte post-scoperta di Card Market. Ah, ok. Non sapevo neanche io fino a praticamente, fino alle ultime ghost che ho comprato su Card Market il resto io ho comprato tutto su eBay anche sovrapprezzato perché io non sapevo neanche che esisteva Card Market. Ok. Così è. Ok, adesso si capiscono alcune cose del video e sicuramente ha molto più senso. E ultima domanda. Le conclusioni che non sono molto... Allora, le conclusioni per chi tu pensi hai fatto il ragionamento giusto nel caso in cui tu vuoi vivere di questo. cioè nel senso che nel caso in cui tu vuoi farti un'entrata secondaria con le carte oggi per una persona come me nel senso che io ho già un lavoro abbastanza impegnativo e ho una serie di investimenti già in atto miei comunque non è che posso stare appresso alle carte veramente. Quindi mi serviva qualcosa che era low effort il più low effort possibile quindi non poteva essere una cosa che poi dovevo rivendere fra sei mesi doveva essere una cosa che dovevo rivendere veramente almeno tra 5-10 anni perché la testa mia se no già mi fa male come si dice dalle mie parti quindi ho pensato qual è la cosa più sicura che potrebbe andare è un investimento stile se facciamo un riferimento con la finanza che in tra virgolette è l'unico... l'altro investimento che faccio è come investire in coca cola, disney, mcdonald lo sai che grandi 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 ritorni non ci saranno probabilmente rispetto a chi fa investimenti seri con le stocks però sai anche che fra 20 anni probabilmente saranno lì fra 10 anni probabilmente saranno lì that's the point non sono del tutto d'accordo anche a livello finanziario perché nel pratico potrebbe succedere qualsiasi cosa a coca cola uno scandalo enorme e le azioni potrebbero scendere di prezzo diciamo che allora coiughi... scendere di prezzo e diventare zero però è diverso io sto dicendo cose che proprio non valdranno proprio più niente in quel senso lì poi ciò ho detto ritorni anche minori ritorni minori significa anche magari ritorno zero ma non che fai uno zero cioè non che perdi i soldi non è tipo investire in coca cola investire in solana e cazzo che cosa in solana ci fai veramente i soldi come hanno fatto alcuni però è più rischioso divisa più appresso ecco diciamo che per iughi ho capito il ragionamento che volevi fare però non è una questione solo di artwork iconici cioè qualsiasi altra ghost poteva andare bene che fosse uscita da un po' di tempo perché esempio il drago che hai preso te è di ghost from the past 2 e quelle ghost sono scese molto di prezzo dall'uscita del prodotto perché nel pratico ne uscivano veramente tanto rispetto a ghost from the past 1 quindi comprata adesso può avere senso sul lunghissimo periodo potrebbe salire un po' di prezzo e ok diciamo prendere roba iconica solo perché ha l'artwork del drago bianco no perché nel senso ci sono 60.000 stampe e non sale effettivamente se mi dici il drago bianco occhi blu ghost di ghost from the past sul lunghissimo periodo ok si è visto già quel drago bianco occhi blu da dds che attualmente sta sui 3000 oppure anche qualche stampa del drago bianco tipo quelle da fl1 o da dbt mi sembra che stanno sui 70-100 euro ovviamente lo stesso ragionamento non vale per tutte cioè c'ho art del mago nero del drago bianco che stanno tipo a 50 centesimi mettiamola così anche le loro versioni ultimate che uscivano da structure stanno po' 5 euro niente di più ma vabbè non era questo il fulco del discorso era un po' per capire il perché del video poi voglio dire anche questa cosa cioè io sono super contento di questa conversazione nel senso che comunque tu che veramente mi capisci ci sta che tu mi dai questo consiglio e lo apprezzo poi ci sta anche da dire che non è che proprio da tutti che tu ti viene lo spiripizzo così una sera e dici ma investiamo 500-600 euro in the dark in carte di Yu-Gi-Oh! per fare due cazzate comunque è normale che era pure un po' no no ma quando ho visto il titolo sapevo che era già una marea di cazzate e volevo assolutamente fare la reaction la differenza è che se lo faccio ad Antoshow non so se lo conosci che lui se crede sto cazzo a livello di Yu-Gi se la prende mi blocca su Instagram con te stiamo facendo questo video adesso io sogno un video insieme a lui ma non lo vuole fare e guarda un po' allora questa è una minima parte di quello che ho tu non ti rendi conto non ti rendi proprio conto so quante cazze entrano in quei cose però questo è un investimento eh sì è diverso sono tipo più di 100.000 in camera mia è un magazzino è un fottuto magazzino ne ho prese altre oggi le devo sbustare ancora è la fine morirò sotto chili e chili di carne ma dettagli infatti però dopo vorrò farti una domanda proprio su questo va bene te la faccio pure ora se vuoi vai prima andiamo con le domande poi andiamo col gioco quando è troppo ecco cosa vuoi dire cioè tu dici ovviamente tu lo fai anche un po' per mestiere quindi ci può stare però cioè quando tu dici questo qua ho esagerato o non l'hai mai pensato io lo dico sempre io lo dico sempre con esagerato il problema è che se l'offerta è buona conviene comprarlo nel senso non è una cosa che vai al supermercato ce l'hai sempre è l'occasione che ti capita tu fai l'offerta se ti dice sì ok se no amen sì capita al mese che ho speso 100 euro capita al mese che ne ho spesi 3.500 diciamo quel mese ho detto forse forse ho esagerato però effettivamente era soprattutto un lotto da 2.500 che non è ancora uscito sul canale e era roba veramente tanto golosa che dovevo assolutamente comprare comunque detto questo adesso passerei al gioco ti giro sul whatsapp due foto e mi dovrei dire cosa ne pensi come prime due carte ti ho girato un mago nero che è l'artwork effettivamente quello dello structure deck e dall'altra parte abbiamo ash blossom che è una delle carte staple più forti del formato in tutti i formati perché scartandola nega la serciata da mazzo a mano oppure un'evocazione speciale da deck o il fatto di mandare una carta da mazzo a cimitero questo è l'artwork alternativo dove vengono mostrati i piedini e sappiamo tutti che i piedi piacciono quindi io ancora non sto guardando ora voglio fare la reveal ok cosa vuoi che ti dica cioè nel senso di questa è la direzione che sta prendendo ecco ho capito però diciamo che non mi sembra molto da local nel senso che tu quando ti fai la partita in fumetteria fai vedere questa carta e dici cose perverse su questa carta dovrebbe essere figo in qualche modo ci sta sicuramente diciamo non sembra più tanto yugioh questa è la cosa cioè questa qui potrebbe essere tranquillamente un come si chiama quello là tipo sword art online cioè sembra un po' quel tipo di manga lì ok capito invece prima diciamo che lo stile po' dragonboliano diciamo che a me piaceva insomma questa era la cosa figa ci sta pure aggiornarsi con i tempi moderni questo potrebbe essere un manifesto di una ragazzina scomparsa portata via da un tipo al parco cioè nel pratico sì sì potrebbe essere anche uno di quei fumetti fumettacci da supermercato non so come dire sai quelli lì che trovi al supermercato di solito che sono queste copertine un po' io non so che supermercati in che supermercati vai perché nei miei c'è la frutta c'è la verdura ho fatto lo scappalista sono abbastanza sicuro che il Conad non ce l'hanno ti dico che al Carrefour qui a Benevento ci stanno i manga ci sono spesso questi manghetti un po' dubbi che tu dici ma la nonna veramente compra questo al mipotino e poi ci saranno sempre questa cosa un po' sessuale però tipo no vabbè però insomma ci sta dai non è io ammetto di non essere neanche un amante del mago nero come Artwork perché sono un banale normi che gli piacciono i draghi però a parte quello va bene va bene allora andiamo sicuramente più caratteristico cioè un mago nero sicuramente ha più personalità di questo qui che potrebbe essere veramente manga X ok ci penso va bene allora andiamo col prossimo ah mio mio lo sai l'anime mio mio miomio sembra ok rimanendo con le ragazzine abbiamo da una parte un cazzo di drago bianco che non fa niente mostro da 3000 a 2005 e dall'altra il mazzo più come posso dire senza essere denunciato è il mazzo che le femministe non approvano perché perché tutto l'archetipo è basato su ragazze che fanno lavori di casa lei ovviamente è la carta più forte del mazzo vabbè è basato sulle maid giapponesi però nel pratico diciamo che è al limite del come posso dire della decenza della decenza però l'artwork in sé non è male cioè ci sta questa roba stile Van Helsing ma non so tipo ci sono alcuni anime pure che erano un po' così l'anime diciamo sì il coso in sé non è male il fatto della sinceramente più che una cosa maschilista in quel senso sembra più quei vestitini un po' porno ecco magari lei non è che veramente pulisce lei entra facendo finta di pulire e poi in realtà come si dice in Scozia fuma la salsiccia guarda io sogno allora dovrò dirlo alla mia fidanzata perché dovremmo trovare un accordo deve comprare la coda e le orecchiette da gatto poi comunque c'è ormai il cosplay in generale cioè è una categoria di porno praticamente quindi non è che ci sta da parlare ma vogliamo dirla tutta ma il drago bianco in questa posizione qui cioè in questo proprio artwork qui non è proprio è il migliore è il migliore è figa l'idea è figa l'idea che sembra un geroglifico sembra questa cosa che tu l'hai andata a prendere in qualche runa e quindi sembra quel disegno lì ma ci sono altri altri artwork dove si vede meglio il drago proprio che vola quello con la luna dietro oh finalmente uno che mi è da retta e non continuo a dire che quello dello structure sia il più bello cioè è bellissimo penso sia il secondo drago bianco più bello secondo me forse il terzo perché anche quello di FL1 che è quello di Lobo ma secret molto bellino però cazzo quello con la luna è il migliore che poi è pure firmato ma vabbè senti un po' ma tu sei tipo ruzza no quello degli orologi dice che lui ormai non sente più niente per gli orologi ed è solo business business però per te è solo business business o comunque fai fatica a vendere a volte sì a volte c'è della roba che vorrei tenere a parte la roba delle staple che mi possono servire anche per fare qualche decklist oppure da prestare per fare liste sul canale se non mi dessi un regolo metterei tutto nella collezione fortunatamente mi sono dato un contenuto e ho detto quello che compro tranne qualcosa è da rivendere poi ovvio quando vedo quelle robe carine che mi piacciono me le prendo e vaffanculo a tutti per me non è solo un lavoro è proprio un hobby è quello che mi piace fare io diciamo che per fortuna mi ci sono appassionato quando ormai l'album era quasi finito e non voglio iniziarne un altro ma in realtà poi mi sono intrippato un sacco con le lore di Yu-Gi-Oh cioè il fatto tipo che ne so tipo il goblin giara dell'avarizia come si chiama ricastro goblin tutte quelle lore lì che poi in realtà sono fanfiction molto spesso però tipo c'è nel senso che la storia ufficiale ufficiale non è che ci sta scritta a qualche parte no no la storia le storie esistono cioè in Giappone esistono proprio i volumi sì sì e da noi non sono mai arrivate comunque ci stiamo dilungando io passerei alla terza carta ovvero ho questo questo secondo me ti darà forti emozioni soprattutto se sei di destra sempre di destra no però se sei di destra ti darà forti emozioni è finita ecco da una parte abbiamo il il pinguino fascista che alza il braccio e dall'altra abbiamo Gora Tartle è pieno di meme su questo pinguino con non ci ridilungheremo con cosa non so qual è quella vecchia e quella positiva quella nuova quella nuova è la prima il pinguino ah ok e Gora Tartle è da Dark Beginning 2 comunque ti dico la seconda a me mi sembra proprio fondo stoccone di presso da qualche sfondo su google immagini e tartaruga normale con modificata leggermente la faccia non lo so non mi sembra niente di che se devo essere magari sto distruggendo un classico però a meno per me è così c'è carina sta faccia sopra però insomma niente di che il pinguino mo al di là della roba ci può stare pure sta lore del pinguino che parla con questi uccelli che volano e quindi c'è questa allora aspetta aspetta premetto che la cosa del pinguino fascista è una cosa che hanno generato i giocatori si e i meme la Konami si dissocia totalmente dal fascismo e da qualsiasi tipo di dittatura premetto prima che vengo bannato da Konami si 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 a me sincero mi sembra strano che una carta così fa 2700 d'attacco prima una volta non erano mostroni quelli che tenivano un attacco forte no ma nel pratico non è forte tanto per l'attacco ma è per l'effetto che non ricordo cosa ma tipo non ti permette di adesso leggerò perché sono un cane è normale che un animale così piccolo c'è un attacco così forte si ma nel pratico attualmente i punti d'attacco non dicono più niente tipo questo qui che è un link con 300 punti d'attacco comunque un link forte non è che con lui vinci però è una carta forte quindi ho detto una boomerata ora che mi sono concentrato sui punti d'attacco si no i punti d'attacco ovviamente se è un mostro con un effetto incredibile non è targettabile non è indistruttibile da battaglia da effetti fa anche quello che fa dio sceso in terra poi se ha anche 4000 punti d'attacco dici vabbè io il mio l'ho fatto e l'unica carta con cui puoi spaccarlo è un kaiju o golem di lava o la palla di lava però diciamo che sono casi eccezionali che un mostro abbia tanti punti d'attacco e un effetto incredibile cioè non sono tutti così ce ne sono molti io vengo da un mondo in cui il drago bianco o chi blu era dio perché aveva 3000 d'attacco invece di 2500 l'epoca in cui giocavi aveva già un suo meta delle carte forti però ovviamente non ne eri a conoscenza perché tanto penso giocavi verso il 2005 2006 no si ho giocato ho giocato proprio diciamo tra virgolette seriamente fino a Kybe Evolution diciamo fino a fine gli eroi elementali ho giochicchiato fino a Kybe Evolution ho giocato quindi veramente poco in realtà se ci pensi però avevo quelle mie carte le mie cose no però nel senso il formato GOT te lo sei fissuto e c'era il formato che è quello del 2006 ragazzi nome linciate non me lo ricordo però mi sembra 2006 dove ad esempio si giocava Capri Spiatorio Don Zalong Ginzo e metamorfosi cioè nel pratico il drago bianco chi blu non è mai stato forte spoiler no si 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 volevo fare la battuta si si però si allora adesso andiamo a un grande classico se vuoi ti metto qualcosa di un po' più serio a livello vintage con penso uno dei mazzi più forti del formato attualmente che gioca questa carta che figa l'idea posso dire è geniale il mazzo non è forte fa schifo però è geniale è geniale sì perché la barca del sushi invece il sushi è la barca c'è tutto un archetipo se tu scrivi sushi su google escono tutti tutti i sushi c'è la carta terreno che è il ristorante poi ci sono tutti i tipi di gunkan posso dire sushi per me batte teschie vocate ho deciso teschie vocate capite è quella normata capite che nel senso che è un po' da normi il teschione con i muscoli ci sta cioè negli anni capito di quando ero giovane io cop eravamo tutti fissati con quella roba lì però da 32 anni ormai apprezzo di più il meme ci sta sushi batte schifo per me scusa mi è entrato un sushi nell'occhio sto piangendo allora questo già mi riempie di cuore sì mi riempie il cuore di gioia allora andiamo con un'altra carta ti darò adesso due carte che sono dello stesso archetipo una è vecchia una è nuova vediamo se indovinerai qual è la vecchia qual è la nuova vabbè a parte che questi triangolini non c'erano prima poi comunque buco trappola ce l'hanno tutti quindi questi sono dello stesso archetipo ok quindi io non so neanche bene cos'è l'archetipo allora l'archetipo è praticamente sono tutte carte dello stesso tipo dello stesso mazzo esempio tu hai comprato il drago bianco chi blu alternativo anche il drago bianco chi blu alternativo il drago bianco fanno parte dello stesso archetipo del mazzo drago bianco questo qui diciamo non è che fanno parte dello stesso archetipo però fanno parte dello stesso mazzo perché il mazzo traptrix funziona con le carte buco ovvero esempio ce n'è una che evoca aggiunge un buco da deca ma questa qui dice che quando viene attrivata una carta trappola normale e mi fa evocare un traptrix quando si attiva l'effetto di un traptrix mi fa settare una carta buco dove sono tutte due trappe praticamente la cosa bella ok non si intuisce dall'artwork con la ragazzina in ginocchio è il fatto che si si probabilmente a mille anni anche se stiamo a 14 anni il fatto è che ogni traptrix ha il nome di una pianta di un insetto tipo c'è mirmeleo che si fa ai mirmeleontidi mi sembra che sono degli insetti sono delle formiche e praticamente quello che appare la ragazzina sono i fumi velenosi delle piante di questa zona che creano queste illusioni e quindi i gobelin così che si avvicinano per venire da queste ragazzine come fanno i cinesi arapati i giapponesi arapati che molestano i minorenni praticamente vengono divorati poi dalla pianta carnivora che questi rappresentano dalla pianta e dall'insetto però c'è figo dai però posso dire a parte proprio quelle classiche che secondo me c'era pure parecchio affetto si vede che comunque ci sta tra virgolette più impegno negli artwork oggi eh prima veramente era un buco è un tizio random che stava in un buco prima era un tizio in un buco punto poi invece ora ci sta comunque anche il disegno più semplice magari ci sta sempre un po' più di impegno non so come dirti prima secondo me dovevano anche dire ok perché ho comunque qualche cazzatella di disegno per fare magari dei set di carte per giocare a cazzeggio quando ero piccolo li facevo a un certo punto è un problema di numero di carte quindi quando tu hai il gioco all'inizio e dici cazzo dobbiamo vendere ste carte perfetto quando dobbiamo farle 500 ok allora qua inizia a buttarci un po' di cose a caso solo per riempire e secondo me il primo yuki soffre un po' questa cosa qui perché c'è sto buco tra parro non mi puoi dire che è caratterizzato sto tizio è un tizio normale tutti conosciamo però se tu ci pensi non è che c'è stato tutto sto ragionamento ecco ammiccamento sessuale questo potrebbe sembrare magari a qualcuno può essere fastidioso però ma c'è sta insomma questo voglio dire beh dai basta con le ragazzine per adesso per adesso ovviamente e andiamo su questo facciamo un mostro e una magia da una parte abbiamo gamesiel che praticamente riprende uno dei kaiju giapponesi dall'altra parte abbiamo il libro della vita che è una carta magia di dark beginning 2 che sinergizzava con i mostri tipo zombie che li evocava specialmente dal cimitero vabbè anche qui io preferisco la nuova figa molto figa pure il fatto degli elicotterini dietro che fanno sembrare proprio come se fosse un film di Godzilla no diciamo che Godzilla è un kaiju è uno dei kaiju giapponesi praticamente diciamo il fatto che renda questa carta forte oltre che bella è il fatto che tributa i mostri avversari e si evoca sul terreno avversario tipo come fosse un golem di lava diciamo funziona nello stesso modo non so bene cosa è il golem di lava ma non fa niente cioè ho capito il senso no questa qui del libro il libro della vita c'è lo stesso problema delle carte vecchie di cui abbiamo parlato prima ci può pure stare però di base è un libro cioè c'è un famoso un famoso video un video che a me mi ha colpito di Franz che faceva il signor Franz che parlava di come fare le foto e diceva tipo a volte sì ok è una bella foto ma è una moto cioè è una foto ed è una moto punto e questa è la stessa cosa cioè alla fine bello però è l'immagine di un libro sì ok ci stanno sti geroglifici però ok questa è la mia opinione ecco cioè non c'è che quello anche di storytelling ecco parliamone un po' cosa dobbiamo dire una mezza cazzatella tu su Gamisiel tu vedi effettivamente un mostro che lo cercano di battere lui che si dimena eccetera eccetera è interessante questo libro appare un libro e basta cioè non c'è conflitto come si dice nello storytelling vabbè però insomma è una carta che ho pure giocato perché ce l'avevo il mazzo zombie più che altro cioè queste carte vecchie sanno dei vintage cioè lo vedi che è uno stile vecchio cioè molto spesso le persone piacciono perché hanno questo stile mentre carte più nuove o sono più in dinamiche tipo perdono le umanità non si sa perché non ho capito perché però nel senso Dario Marcial non accetta queste cose però aspetta se tu vuoi parlare di teschi evocato mago nero drago bianco occhi blu effettivamente cioè rispetto a questo anche rispetto a questo Gamisiel hanno un po' di personalità in più hanno quel qualcosina che sono veramente iconiche ecco questo voglio dire questa qui sicuramente è meno iconica è una sorta di blast toys con questa specie di pinne a posto dei cannoni e basta quindi ci sta da quel punto di vista poi però se tu me la paragoni io la sto paragonando a quella a fianco ecco questo voglio dire quindi se tu me la paragoni a un drago bianco è normale che vince il drago bianco domanda importante ma è iconica o te l'hanno fatta diventare iconica è stato in culo così sì sì ho capito che vuoi dire diciamo che è come dire isolation più figo di Charizard sì no è questo il problema di prendere carte iconicissime perché Charizard Charizard cioè te lo vendono anche adesso però aspetta se io prendo Pikachu o Mimikyu che praticamente è il Pikachu di generazioni successive non mi ricordo se sole o luna così preferisco Mimikyu secondo me è più bello è più ispirato adesso mettiamo una carta ti mando una carta vintage secondo me è molto poco ispirata si fa cagare però fa ridere con una carta anche questa un po' meme è un mazzo molto forte attualmente non mi piacciono nessuna delle due per il nostro presupposto qua è troppo complicata proprio per il discorso di prima che ho detto Pikachu eccetera eccetera questa è un po' complicata poi il pompiere paura non ne ha però i gran cazzi cioè qua fa cagare secondo me eh poi detto questo quell'altra dici tu fa cagare però qua fa cagare però carina in un certo senso perché qui tu veramente è come se tu vedessi un vecchio amico che è rimasto con la mentalità antica e tu si fai la carezzina come di fatela se ti guardassi una foto vecchia non so come dirtela che se è figa cioè è figa nella sua merdagine ecco mettiamola così perché così male cioè non così male in senso non si possono fare altre cose così male ma fatta male in questo modo può essere solo Yugi non so se è chiaro quello che voglio dire e tu carte brutte magic le trovi ma non sono così non so se è chiaro quello che voglio dire questa è proprio fatta male ma è fatta talmente male che fa il giro e diventa bella esatto e ti chiedi ma perché c'ha la stessa spada di spada di fuoco no cioè ci ho pensato ma non me l'ero chiesto nel senso ho detto ok va bene ma il problema è che è tutto sbagliato nel senso i piedi sono tagliati poi la testa è tagliata un pezzetto di spada a sinistra è tagliata c'è un treno che passa tra il gomito e il bordo laterale quindi è tutto sbagliato però a monostampa è stato stampato solo da tournament pack 1 e probabilmente costa 15 euro e ti chiedi perché la vita deve essere ingiusta scusa continuiamo questa trafila di tournament pack abbiamo no questo è dark beginning ovvero abbiamo le statue dell'isola di pasqua così tanto perché non avevano idee quindi rubiamo dalla realtà e dall'altra parte abbiamo sì dai mettiamo questo una delle carte più forti del formato attuale cioè del formato scorso e anche attualmente non è male cashtira ferrir ovviamente come ti avevo detto questa è una delle carte che fa parte di una lore enorme che si è protratta nel corso dell'ultimo anno ma dici quella di sabaku ho fatto se ha tradito non ha tradito sì 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 quella lore lì no ho capito ho capito che vuoi dire allora devo essere sincero questa qui non so perché ma non mi convince sarà perché a me non mi convincono tanti i robottoni non mi convincono tanto le carte tipo cosa chissà che sembra uno degli ultimi starter quello gatto c'hai ragione c'hai ragione è la terza evoluzione di quello schifo dell'epoca bianco e nero non mi ricordo non mi ricordo non mi ricordo il nome però sì sembra quello lì c'è posta però non ho capito bene questo viola così e questo è come se tipo tutto mi dicesse è figa nel senso che razionalmente uno dovrebbe dire è figa però non è figa cioè non lo so mi lascia un po' mi lascia un po' perplesso guarda tu praticamente le immagini le stai vedendo come se fossero comuni foil è più bella però qua stiamo valutando solo l'artwork perché altrimenti cioè la statua dell'isola di pasqua è comune e ferrir è ultra secret quindi sì visto così neanche a me non dà un grande effetto foilato è un'altra cosa eh ci può stare diciamo che ci sta la statua dell'isola di pasqua mi fa ridere perché poi era un po' come le facevano cioè questo fatto pure del font stiracchiato ah sì dai comunque meglio la statua dell'isola di pasqua che ferrir vai ok vabbè l'unica cosa che comunque hanno cambiato è che hanno messo tipo le zanne alla statua così tanto per renderla un pochino più cattiva allora poi pure gli orecchioni andiamo adesso con un'altra carta molto recente cioè recente dell'anno scorso però anche questa ha fatto cioè non è che ha fatto top è stata una carta meta di un mazzo per sprite e dall'altra abbiamo il maestro oscuro zork questa vince la prima a mani basse secondo me perché sono proprio i belli colori sì ma è figa proprio questo qua sembra forse qualcosa di myro accademia non lo so di qualche anime che c'è uno tutto ah no no di Hunter Hunter quando Killua diventa tutto elettrico grazie eh per lo spoiler però va bene adormi Hunter Hunter però è di dieci anni fa vabbè mi dispiace allora scusate questo qui vi piamo tutto sembra però uno di un anime generico ok molto elettrico molto figo bellissimo l'idea della giacca perché tu vedi il fatto del corpo attraverso la giacca adesso veramente figa proprio tutto l'idea è tutto certo il nome non lo sapremo mai chissà che l'ha disegnata poi questa è una immagine che tutta quanta colorata sembra tutta cioè tutta coilata quindi ovviamente sarà figa Zork c'è posta però capito sembra il disegno di quello che ha appena scaricato Photoshop per disegnare e ci mette un po' di fumi eccetera niente di che no vabbè però c'è le ombre sul corpo che comunque sono fatte bene sono due stili completamente differenti mettiamola così sì sì ci sta però diciamo più standard Zork che è figa proprio bella proprio l'ho presa proprio oggi quindi ero proprio pronto per tirartela fuori bene te ne manderò dieci copie a casa no non è vero ce n'ho una e non ti darò venticinque euro di carta allora andiamo avanti andiamo avanti questo mi viene in mente ma sto Zork tiene il coso no non è il flauto del drago quello là no andiamo con una carta che secondo me non è ispirata per niente mi chiedo perché Kazuki Takashi o chi per lui abbia ideato una roba del genere ovvero Pavone questo è un po' una merda e dall'altro questo è un po' una merda sì e dall'altra ti metto una delle carte più tumorali di un mazzo che si chiama Purely tumorali perché? perché quando entra in campo e c'ha tipo sette materiali attaccati è una rottura dei coglioni e in quel momento appare Gamessiel dall'alto che ti dice ecco arrivo perché c'ha le stelle ad altra sinistra? non lo so ogni tanto esce questi archetipi strani che sembrano di un'altra cosa infatti non ve la prendete pubblico femminile anche se siete del tipo l'uno per cento molto femminili per la tipologia di pubblico e boh nel senso ok cioè è tanto brutto quanto forte sinceramente non è non mi piace nessuna delle due perché una veramente sembra tipo presa da Sailor Moon quella cosa forse ora che sto guardando queste carte forse sono veramente tutte espansioni diverse quindi magari sto dicendo una cosa assurda però veramente sembrano forse troppi disegnatori troppi stili diversi non so in Pokémon mi sembra che c'è più una certa coerenza tra le varie tra le varie carte ecco mettiamolo così Pokémon c'è tanti disegnatori differenti poi c'è qualcuno iconico che rimane che tu lo sai che era Nishida o gli altri non me li ricordo però nel pratico alcuni iconici ce l'hai poi ce ne sono tanti altri qua nel pratico potrebbero essere tipo anche dieci disegnatori differenti con stili differenti ma non lo potremmo mai sapere ci stanno e anche a me piace più quindi a questo punto direi anche che Pavone è più bello ma nel senso c'è un limite non riesco a dire neanche questo è troppo forte allora andiamo al prossimo abbiamo un'altra carta abbastanza forte nel meta scorso che fa parte di un mazzo chiamato Runic che funziona mandando carte dal mazzo dell'avversario al cimitero e lo fa perdere togliendogli tutte le carte e la paragoniamo a un'altra carta iconica ovvero Jinzo dall'altra abbiamo una ragazzina però senza le calze a rete dove si vede bene tutta la coscia dall'altra una macchina però non è una macchina questa è una specie di il tizio di chi ha incastrato Roger Rabbit mischiato a uno Xavier strano mixato a un magneto cioè questo qui è figa cioè Jinzo non si può dire che non è figa quell'altra è altro personaggio X di Sword Art Online che si è fatto il personaggio Kawaii così eccetera eccetera quindi non c'è neanche da discutere Jinzo ma proprio dieci volte secondo me dici da una parte c'è un dio e dall'altra parte c'è una ragazzina ok va bene se facessero le carte di Sword Art Online e mettessero questo disegno qui tu diresti ma questo qui è di Yugi no beh considerando Yugi adesso ti direi ma molto probabilmente ah ok allora andiamo avanti adesso ti propongo non perché c'erano Sword Art Online ma ti giuro che non mi è neanche così dispiaciuto come anime in realtà però non l'ho mai visto quindi non ti saprei dire da una parte abbiamo un ventaglio e dall'altra secondo me è una delle carte più belle disegnate ultimamente ovvero Dark che è una delle Charmer si si ci può stare però secondo me è molto più cazzuto di L L sembrava stesse morendo che è bello sono tutte e due belle però no no spiegami come fa un ventaglio con uno sfondo di stock praticamente scaricato dai siti gratuiti che trovi su Google con Dark che cioè è tutto bello scusa vabbè no ma è bello allora però non lo so sarà perché forse l'ha vista pure dal vivo invece l'ho vista solamente qui che è tutto un po' mischiato diciamo per virgolette i colori quindi non è che sono proprio tutti chiarissimi quindi probabilmente vedendola dal vivo tu hai un'immagine diversa di quella che ho io in testa vedendola qui mi sembra tutto quanto un po' messi l'altra è figa nel senso che nella sua semplicità c'è comunque una carta equipaggiamento che ci può stare cioè non è che un equipaggiamento non è che la puoi fare chissà che ci vuoi fare è un'arma no ma il fatto è che dai è tutta sbagliata anche i bordi sono tagliati non cioè sì sì non è bellissimo ok ho capito che vuoi dire tu a me non mi è dispiaciuto oh che ti devo dire no no dark dark ma devo vedere dal vivo perché secondo me qui non rende perché non si capisce bene ci sta che ho capito più o meno intuisco le forme ma non è che la vedo proprio bene bene ok quindi devo rivederla e la compro tanto quanto sta un euro dai va bello me la piglio dai me la guardo andiamo con la penultima che è diciamo della roba vecchia è rimasta poca roba bellina abbiamo scintilla ero scintilla 2 e dall'altra abbiamo vediamo vediamo chi è rimasto oh abbiamo una ragazzina che dorme allora diciamo che è molto più bellina quella nuova cioè vabbè oscillo hero è una merda questa è una merda proprio perché comunque su due palle veramente cioè qua era tipo cazzo dobbiamo fare sta carta e abbiamo 10 minuti se ci hanno messo più di 15 minuti a fare tutto quanto il disegno è da sparare questo tizio perché veramente c'è manco le mani manco niente tutto al minimo possibile dobbiamo stampare una carta muoviamoci questa qui invece è carina ma non so gli effetti tutto quanto ma non voglio però diciamo che è molto carino anche l'effetto con la luce il fatto che si illumina qui è fatta bene questa non mi dispiace certo è strano che la luce piglia così bene la faccia non piglia bene sulla gamba insomma ci sono non so mi sembra che ma non sono un professionista però è bellina andiamo adesso con l'ultima che ti mettono due carte che secondo me hanno il loro perché quella vintage non è molto ispirata però secondo me è figa ovvero la trappola buco bianco che è praticamente buco nero in versione bianca che come effetto nega buco nero cioè se il tuo avversario attiva buco nero diciamo che lo nega per dirla dirla semplice e dall'altra abbiamo una carta che fa parte è più interessante è figo perché ovviamente quello che gioca a buco nero di solito dice vabbè sacrifico le mie uccidore tua invece tu gli dici a livello psicologico anche se poi questo qui è inutilizzabile perché solo un counter di una carta singola è secondo me inutilizzabile però diciamo che è carino l'idea che tu lo fotti proprio perché lui quando fa buco nero di solito è proprio per dire vabbè cambio di regine e tu vai lì e ci dici no solo la tua regina ok adesso vorrei darti la seconda opzione scusa questa è la bambina morta chi può stare secondo me non mi sembri convinto non mi dà l'idea mi piace più la prima effettivamente ora che me le stai facendo vedere un po' è un po' scocciante nel senso di non ti colpiscono più diciamo queste ragazzine nel senso che effettivamente sembra un po' un po' uguali è un continuo di sempre e più che altro il problema è che dopo le magie e trappole cioè ci stanno le magie e trappole singole però le magie e trappole di archetipo non sono belle nel loro artwork sono belle nella storia che compongono e quindi non non si distaccano più invece buco bianco e dici ma che cazzo c'entra comunque ti voglio far vedere una cosa che uscirà nel prossimo set io ho aperto stamattina quello giapponese e e c'è una carta che secondo me è fighissima l'idea cioè è figa l'idea ma dall'altro canto dici vabbè che senso ha allora l'idea non è che mi è proprio chiarissima però è figa è una specie di ghiratina mischiata più più arcidemone però ok va bene tu riesci a vedere cosa c'è sotto la creatura sai cos'è buco nero ok questo è drago buco nero che aggiunge buco nero figo però è cioè l'idea è fighissima la carta anche come artwork non mi dispiace e ci sta non è male comunque diciamo facendo un discorso più generico ci sono tante carte fighe oggi giorno con degli artwork fatti meglio come se fosse diciamo così un po' come la maggior parte delle carte è come il tizio che è migliorato a cantare becca le note precise ma le canzoni fanno un po' più cagare per qualche motivo quindi diciamo che da quello che vedo io ci sono il problema delle carte vintage è che ce ne sono tante veramente brutte tante veramente iconiche più che fighe direi questo cioè un guardiano celtico su me durerà ancora per parecchio tempo nonostante abbia dei difetti sprite blu è bellissima ma può essere che tra tre anni non ce la ricorderemo più questo è il senso diciamo che essendo un mazzo iconico forte che ha fatto un intero formato a livello dei giocatori dei Yugi ce lo ricorderemo per dirti le carte che sono sicuro che tra tre anni conosceremo tra quelle che ti ho fatto vedere tranne Nemurelia la bambina che dorme e secondo me il sushi è troppo iconico per abbandonarlo e poi è già di tre anni fa quindi già ce ne ancora ce lo ricordiamo diciamo che sono tutte carte di mazzi che comunque hanno la possibilità tra tre anni di dire ah ok esiste questo mazzo diciamo che non t'ho preso carte del cazzo t'ho preso tutta roba abbastanza riconoscibile che un giocatore di Yugi conosce diciamo che sicuramente noto un'antropomorfizzazione delle carte nel senso che ci sono molti più esseri umani da quelli che mi hai fatto vedere tu e meno mostroni ecco che ci sta cioè noi comunque all'epoca erano tutti mostroni cioè non c'erano proprio esseri umani neanche nei cartoni animati quindi ci sta e ogni periodo si adattano l'idrante fa veramente cagare gusti personali diciamo che si può fare un valore unico che non posso direi che a me mi sembrano comunque più iconiche quelle vecchie non so come dirti magari sono perché sono affezionato magari se vedessi un anime sopra queste carte nuove magari cambierei idea però comunque un anime con tutte queste fatine che anime c'è un ragazzo di anche 20 anni può far vedersi un anime con solo ragazzine e che i mostri sono solo ragazzine diciamo che sì quello lo vedo un po' eccessivo eh capisci cioè non c'è non c'è quella cosa lì di ok questo è il mostro del protagonista non so come dirti sì diciamo che qua non ti ho messo nessun mostro dei protagonisti nuovi però diciamo che non c'è mai la ragazzina ci sta il drago ci sta ci stanno altri tipi di creature mettiamola così questi sono tutti gli altri mazzi che la konami crea per costruire il gioco intorno infatti perciò il mio discorso è anche forse un po' limitato però gli artwork sono fighe non è ovviamente a livello tecnico sono migliorato questo non si non si discute prima erano molto più piatti e si andava anche molto più al risparmio una cosa forse che notiamo è che la konami sta andando bene a livello di soldi perché sembra che stanno investendo di più negli artwork perché mettiamola così cioè effettivamente se tu volessi collezionare qualcosa tra quelli che ti ho fatto vedere ce n'è qualcuno che dice cavolo questa è figa lavora in collezione forse mi incuriosisce un po' la parte dei kaiju che hai detto perché ne hai nominati un paio quindi probabilmente ci sta qualche mostrone carino però sinceramente se dovessi investire sulle carte nuove ci sono tante carte di magic che mi stanno ispirando molto di più a livello di artwork eccetera eccetera questa è la verità quindi probabilmente continuerai su quelle più vecchie magari con edizioni particolari magari con cose molto specifiche ma manterrei forse rimarrei vinta ok va bene e va bene ragazzi è andata male non l'abbiamo convinto a ricominciare a giocare ai yogi e collezionare roba nuova però aspetta giocare ai yogi sarebbe diverso è una partitella ogni tanto la capata di farmi un mazzo perché andrò visto che sono pure mazzi relativamente a pochi euro per farmi un torneo quello è diverso ancora non sto dicendo quello ok però allora ragazzi non l'abbiamo convinto a collezionare roba nuova ma potrebbe uscire un video dove impara a giocare ai yogi chi lo sa vediamo sarebbe figo cappello insegna cappello mi fa vincere un torneo in 30 giorni non lo vinco io in 30 giorni un torneo vabbè però magari combinando due menti detto questo ragazzi ringraziamo ovviamente Simone per essersi per aver accettato questa cosa ovviamente non vi preoccupate tornerà su questo canale perché più avanti dovremo fare una live insieme dove gli spieghiamo effettivamente dove conviene investire i yogi quindi se lo volete fatemelo sapere qua sotto con un commento e noi ragazzi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti